Un impatto violentissimo, le cui cause sono tutte da comprendere, ma che solo per un fortuito caso e per il preciso e tempestivo intervento dei soccorritori non ha provocato vittime. Una Opel Astra ed una Lancia Y si sono scontrate frontalmente attorno alle 20.30 di ieri sera sulla ex SP231 nel territorio di Andra, in un punto senza dubbio particolarmente pericoloso al termine delle quattro corsie ed in un luogo già teatro di numerosi altri incidenti. I due conducenti, dopo l'impatto, sono rimasti incastrati nelle contorte lamiere delle due vetture e ci è voluto un lungo lavoro dei soccorritori, sia delle equip sanitarie del 118 di Andria che dei vigili del fuoco provenienti da Corato, per estrarli, vivi ma con gravi lesioni, la cui entità è ancora in corso di valutazione. Entrambi, due uomini andriesi di 60 e 55 anni, sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo. Sul posto anche il nucleo di pronto intervento ed il nucleo viabilità della polizia locale di Andria, oltre alla polizia stradale di Ruvo che ha compiuto i rilievi del sinistro. Molto lunghe le operazioni di rimozione dei mezzi, con strada completamente chiusa sino a tardasera, fino allo completo ripristino della viabilità.